ok sincronizzazione audio 1 2 3 adri ma che cazzo di spirale è quella roba con pistola e bella a tutti ragazzi sono cristian g67 bentornati sul mio canale ragazzi siamo qui accompagnati z adri adri siamo pronti però pronti siamo qui a far una gara demolire oddio turbo preso è che culo fantastica ma che la parte di altri subito in prima posizione cristian sarà demolito no dai e dai god o a me sarà dato in campagna sono andato no è regata a trovare ai mani gesù regala vigno adri a sondato veramente da paglia sono sparito daci occhio no esplode tutto il veloce o oddio mi chiede voi fate esplodere il benzinaio te l'ho detto quello ha detto è noto non puoi mettere benzina gratis bomba in aria ok autolisis stato ragazzi qua dovrebbe esserci una rampa ipoteticamente su questa mappa dico bene passa subito qua di fianco e devi essere anche consapevole che perderai questa gara ovviamente mi sa se sei nel dottor fight ti ho fatto vincere qua non c'è la vita per cristian ma se facesse io sono cristo 177 ora ti vengo addosso di sfondo test ma sono andato a mario sono al mario vai a mario attenzione rampa per adoro non fa vera e questa leggerà di risale che concludiamo e quel cane di cristiano lasciamo vai vai sali vai la rampa dai che vuole no sì 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 no non ci credo ma che sfiga è no guarda quando registriamo no 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 sono bloccato sulla macchina di merda dai che cade no non l'ho cercato puttana ma l'ho cercato di poco primo ma devi vedere come è stato caduto e cazzo caputa della cule godo se non arrivi godo da arrivare non possono arrivare vai vai che non arrivano non potevo farla non potevo farla così subito è stata che ce la fai mi sa che ce la fai porca puntare non arrivato grande ok ragazzi siamo tornati qui con un'altra galam gara malatissima segnalata gala 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 esatto voglio una gala ok ragazzi qui dovremo riscattarci fare il culo ad adri ma come sto turbo sempre lui mannaggia ma tu c'era progenio c'era progen degli zingari com'è sta storia ok ragazzi c'è sto war ride allucinogeno guarda 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 adri fiero che lo fa il primo colpo guarda non puoi farci la prima guarda 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 no guarda un cazzo è che ce la faccio io al primo cazzo ma che ce la faccio ma che ce la faccio adri non sono uscita all'ultimo porca puntata che riproviamo ci riproviamo ci siamo e ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo vai 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 porca paletta ok ok sono uscita qui for cavalletta qui e lì dai 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 ti prego ti sta venendo la si ti prego no non puoi uscirmi all'ultimo non puoi non puoi uscirne all'ultimo le ha uscite all'ultimo che zingara mannaggia vai da mangiare povera devo fare e la devo fare anche perché ragazzi una volta fatta questa siamo a posto dai 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 ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego ti prego sì sì l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta cosa preghi non lo so se chiedi assieme al nord assumi giapponese per favore ok ragazzi io credo quanti giri sono a di uno un diretto un diretto un diretto io ho fatto la rampa tu con tu l'hai fatta serio io sì l'ho fatto serio sono riuscita a fare la rampa ben zingaro ben zingari no vince cristiano vabbè ora ora cico tipo b ok ok abbia fatto bene anche questo attivano bell'adri mi è piaciuta mi è piaciuta questa mi è piaciuta questa mi è piaciuta questa ok ok concludiamo questa gara e dato che questa l'ho vinta io siamo uno pari mi sembra cosa è no però aspetta perché se concludi prima dei tre minuti non ti dà il punto bonus il punto bonus va bene perché in gta c'è c'è il trucchetto e se tu arrivi a tre minuti e 10 sì dopo i tre minuti e 10 e dal doppio degli rp è il doppio dei dei soldi di tanto smanichiamo un po con l'auto no più che altro aspetta non so se era 3 10 o 3 20 comunque a 3 10 o 3 20 ti dà mi sa 3 20 era se tu arrivi a 3 20 dava tipo doppie rt e ma che fa che vedi per il suo non è arrivato stavo prendendo un po di tempo in qualche modo ok ragazzi siamo tornati qui in partita adesso ci giochiamo il tutto per tutto e così gli fa prendere in favore ragazzi che macchine preso è la progen t40 no io c'è un modello t20 cazzo sto cazzo di turbo mannaggia a te o c'è gli zingari madonna cosa sta succedendo ma che cazzo sta succedendo aria sono dopo di strada di zingari o bagascio ma che scusa che cane giuseppe maria è andato fuoristrada nuoto al capitano no pure tu mi dispiace odio questa roba che cazzo di ma che cazzo di oddio cos'è sta roba che cazzo di oddio cos'è sta roba ma dove si dio ma che cazzo di rampa adria oddio a parte che l'ho presa di merda di merda pianta da gt boom inchiace tosta questa no sono uscito mamma mia ricordiamo alla prima la vinta adri la seconda l'ho vinta io e adesso ce la schiaffiamo al culo tutti e due eccola lì porca troppo benissimo ti ho visto volare e poi sono volato tipo male concentrazione adesso non parleremo più esatto esatto minchia dai 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 ti prego 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 che cazzo è successo adri aspetta cosa ci sono come ci sei ci sono ci sono ho preso check point non mi chiedere a culo è un bancato di modo che cazzo bisogna sì ma dove cazzo bisogna ai peggio degli zingari sono i creatori ma ma ci scontriamo ah no è impossibile è impossibile ragazzi ronchiamo i coglioni no sei una testa di minchia lo stavo facendo bene ma vaffanculo poi ho visto che l'hai presa proprio bene no c'era arrivato proprio bene era l'unica mia chance sì madre al contrario è impossibile farlo è più possibile di questo lo sai che adesso il mio obiettivo sarà non farti arrivare cazzo vorrei sabotare oddio 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 mi sei passato a sorella no ciao adri stato non è pagata sta gara è l'altro degli zingari fa fa miracoli dai che forse forse riesci ad arrivare a cosa arrivo ma non arrivo mai qua ancora so fa da una parte eccolo lì ragazzi arrivati e schiacciamo adri link in descrizione bion del culo guardate guardiamo qui la visuale di adri bellissima sei sparito vediamo la sua rampa popo fiera vediamolo in azione qui è lui è lui a 15 secondi adria non mi puoi prendere così bene dai che in 7 se ce la fa in 7 secondi voglio 100 mila like adria potevo potevo guadagnarmi 100 mila ragazzi io vi invito a lasciare un commento di cosa ne pensate su questa serie su gta e soprattutto di cosa ne pensate di questa in collaborazione con adri io vi ringrazio tantissimo per la visione e noi ci vediamo io nel prossimo video da christian è tutto bella ok ragazzi diventate il muro inizio a colpirla 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 colpirlo è sceso è sceso è sceso è sceso ci sta scavando la fossa o te la stai scavando da solo mamma mia muori bastardo grazie a tutti